La volta del maestro Woshiba Kishomaru, il doshu, la guida spirituale mondiale di tutto quanto l'Aikido. E' per noi un grande onore ospitare questa massima autorità, accompagnato dal maestro Osawa e dal maestro Ori. Italia, Aikikai no, Souken, Sanji. I miei auguri per questo trainternale della fondazione dell'Aikikai d'Italia. Per noi l'Aikido è una via spirituale basata sulla ricerca quotidiana, sull'allenamento quotidiano di un'unione tra lo spirito e il corpo. Credo che tutti coloro che hanno visto la dimostrazione fino ad adesso hanno capito che il centro dell'Aikido è che risiede in un movimento circolare. E' all'interno di questo movimento circolare che si trova un'unione tra la nostra psiche, tra il nostro spirito e il corpo. Proverei quindi a farvi vedere e a farvi considerare questo movimento circolare. Non ci sono quindi movimenti dritti. Qualsiasi cosa può essere riconducibile a un movimento circolare, a una sorta di spirale. In questo senso la possibilità di avere un movimento circolare e uno spirito che si muova attorno a un fulcro fa sì anche che i rapporti tra le persone siano rapporti senza spigoli, rapporti senza scontri. e viceversa che ci sia un movimento armonico tra le persone. Grazie. 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 Grazie.